Le nuove coperture sanitarie per gli iscritti ai fondi pensione, alle casse assistenziali e alle casse di previdenza dei libri professionisti. Quindi il tema è un po' come proteggere al meglio i propri iscritti anche da eventi così inaspettati che generano sicuramente problemi sanitari, ma anche problemi di ansia, problemi psicologici, perdita del lavoro e a volte anche del reddito. Bene, quindi a questo punto fondi pensione di tutti i tipi, casse di previdenza, casse di assistenza sanitaria integrativa hanno sperimentato per la prima volta gli effetti di una pandemia, l'abbiamo sperimentata tutti purtroppo per la prima volta e questo ha messo a dura prova le strutture interne, l'operatività e le prestazioni e ha generato tra gli iscritti nuovi bisogni, nuovi bisogni di assistenza sanitaria e nuovi bisogni di sostegno al reddito. È quindi necessario che venga ripensata da un lato l'organizzazione e dall'altro anche i nuovi modelli di protezione sociale. I fondi di assistenza sanitaria integrativa e gli enti previdenziali sono intervenuti in questa pandemia, sono intervenuti tra tante difficoltà, però in modo emergenziale, sicuramente i fondi sanitari quando è stato bloccato il Servizio Sanitario Nazionale hanno potuto fare poco come prestazioni, perché è partito il grosso del fornitore dei servizi, ma un po' anche tutti gli altri, quindi sì sono state proposte delle coperture e delle indennità per i ricoveri, per gli isolamenti fiduciari e domiciliari, per le prestazioni, però è stato un inizio, sono una serie di protezioni. Le casse hanno fatto anche qualche cosa di più perché hanno anticipato il famoso bonus da 600 euro, poi è diventato 1000 euro per i libri professionisti e sono stati quasi 500 mila quelli che l'hanno richiesto tutti i mesi. E quindi la domanda che ci facciamo oggi, che ci facciamo in questo convegno è, è possibile fare di più? Probabilmente sì. E cosa possono fare i fondi pensione, le forme di assistenza sanitaria integrativa, le casse di previdenza in questa seconda dura fase pandemica? e che cosa potranno fare soprattutto in futuro? Quali saranno le nuove coperture che potranno essere implementate per fornire quei servizi di tutela e di protezione di cui abbiamo parlato prima? in una integrazione pubblico privato che è indispensabile. E quindi se chiediamo a questi fondi pensione, a queste casse cosa possono fare? Chiediamo anche al mercato, quali proposte il mercato assicurativo può fare per venire incontro a queste esigenze? e ne parleremo nell'ultima parte del nostro incontro, il governo ha compreso che in una situazione così importante, così difficile, è meglio viaggiare su due gambe anziché su una. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale avrà sempre la, diciamo sarà il sistema di base, il sistema fondamentale, ma anche un opportuno sviluppo della sanità integrativa e di queste forme di protezione integrative potrebbero essere utili e ne parleremo con la sottosegretaria Sandra Zampa che partecipa al nostro incontro.